ciao a tutti e benvenuti su mtg investment by mages of lotus allora oggi la seconda parte della classifica che vi abbiamo mostrato ieri abbiamo parlato di cinque carte ieri e oggi parleremo di altre cinque non sono messe in ordine quindi non è una vera classifica diciamo che sono più dei consigli sono tutte carte in reserve list che costano dei 10 20 euro circa allora prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like di commentare e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati ricordatevi di passare anche su twitch stiamo iniziando a fare le live ne abbiamo un po ovviamente per ora giochiamo su arena però in futuro sicuramente giocheremo su anche su magic online perché è la naturale prosecuzione del canale e followateci anche lì non vi costa niente e invece poi probabilmente quando arriveremo a 50 iscritti di potremmo prendere i subscribe quindi le iscrizioni quelle ne avete una gratis con prime video quindi se volete utilizzarla per noi veramente vi ringraziamo tanto altrimenti vi ringraziamo lo stesso anche solo per l'iscrizione di il follow allora direi di iniziare partiamo con dead of loyalty una carta molto molto particolare e secondo me abbastanza sottovalutata però c'è un bug nel senso che se leggiamo la carta come scritta fa un effetto diverso da come l'hanno rewardata perché a costo 3 ci permette instant di rigenerare una creatura e di prenderne controllo fin qui tutto facile e sembrerebbe molto più forte di quel che è perché noi non dobbiamo con le regole nuove basta targettare una creatura avversaria e ne prendiamo controllo e non è così perché infatti a rewardata dice rigenerare una creatura se viene rigenerato in questo modo prendene controllo quindi è un po più scarsa di come scritta in questo momento perché la regola è stata cambiata negli anni di rigenerazione però è comunque ha molto potenziale per esempio classico bianco nero noi possiamo fare removal sul comandante avversario e fare questa risposta quindi andremo a rigenerare e prenderemo controllo il comandante che badate bene è molto ma molto ma molto più forte che distruggerlo perché prendiamo il controllo lo togliamo all'avversario e voi mi direte ma fai 2 per 1 innanzitutto fai 2 per 1 per un effetto molto forte e l'altra motivazione è che l'avversario probabilmente poi farà un'altra removal sul suo comandante e quindi comunque avrete fatto 2 per 2 nella peggiore delle ipotesi nella migliore vi tenete il comandante avversario che direi che è un buon plus quindi questa il prezzo lo andiamo anche a vedere una quindicina d'euro ottimo 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 investimento passiamo a firex and the bowler allora questa è una carta che si gioca per esempio in amina tu un controllo di centurion ed è perché scomba con i classici jay stassa eccetera dove sono legali e tassa e bannate in alcuni in alcune balli se tutto allora tassas oracle cosa 611 e fin qui mi direte che è scarsa in effetti però dice quando il paura e sette o più la sacrifichiamo quindi un'altra sfiga poi è un'abilità attivata che non ha costo di mana esiliamo la prima carta mettiamo x segnalini più più 1 dove x è il costo convertito della carta esiliata e voi mi direte ma arriva sette in fretta e quindi la sacrifichi e no perché noi cosa facciamo non avendo costo di mana noi possiamo esiliare quante carte vogliamo e quindi tutto il mazzo perché lo facciamo sempre risposta l'abilità si risolverà tutto alla fine noi cosa facciamo con jace in campo jace di war of the spark esiliamo tutto il mazzo e quindi poi abbiamo vinto con tassas oracle esiliamo tutto il mazzo e poi facciamo lui quindi possiamo fare come vogliamo molto carta molto molto interessante infatti come vedete il prezzo è un pochino più alto e le copie ovviamente tutte le carte che scombano è sempre così cioè sono sempre un pochino più alte e le copie solo 378 quindi questo è un ottimo investimento ragazzi 378 copie sono poche per una carta di magic sono veramente poche e fate fate conto che questa essendo una reserve list non verrà ristampata capite quindi oggi ci sono 378 copie magari fra tre anni ce ne saranno 290 poi fra due anni ancora ce ne saranno 190 poi 150 ci scenderanno poi vabbè ci sono persone tipo anch'io neo di questi ma ci sono persone che magari ne hanno 20 e se li mettono in vendita sale la ed able items comunque anche questa ottimo investimento poi passiamo a questa carta qua mi piace un sacco vorrei provarla a giocare da qualche parte però non c'è stata ancora occasione allora pendril mist water light quindi cavalcavento come espansione e e dice ogni creatura a all'inizio della clip del tuo clip la sacrifichi a meno che non spenda umana allora è una carta molto molto simile a questa carta per prendere il tabernacolo di prendere che dice all'inizio di data uguale è esattamente uguale all'inizio del mantenimento tutti studi la creatura meno che non paga uno però questa è una terra ovviamente non ha un costo di ingresso ed è tutorabile dai cercaterra e per quello che vale veramente così tanto poi una carta in reserve list anche questa ma è ristampata perché non si può ristampare e vecchia quindi come potete vedere il valore è infinito veramente infinito bellissima in inglese così veramente bella però il tratto ha avuto una copia di questo nella mia vita l'ho avuta e valeva molto ma molto meno è non valeva queste cifre purtroppo e quindi quel questa carta qua è una riserva che fa lo stesso effetto di questa carta e blu ha solo un costo blu tra l'altro umana blu ma questa è una stranezza di questa carta secondo me è la classica carta da due blu non da uno però ne ho uno quindi meglio e il prezzo è sotto i 15 euro quindi ottimo ottimo prezzo questa può essere un investimento multiplayer commander formato più giocato di magic in questo momento anche perché i formati competitivi ovviamente col covid non essendoci torni grossi si sono un po' ritirati ma molti player commander se noi prendiamo tutta la gente che gioca a casa con gli amici è veramente formato più giocato queste molti player commander e forte cioè se io gioco un mazzo blu a base counter la voglio una carta così non ha sfighe particolari l'unica sfighe che dai fastidio a tutti quindi molto probabilmente attaccheranno e oppure tipo in un mazzo place walker è anche molto forte non super friends place walker e allora poi troviamo un'altra carta iconica di magica abbastanza iconica però per chi non la conoscesse vi spiego cosa fa di geridu tratto molto bene il nome dovrebbe essere un flauto antico di qualche sciamano e allora costa uno con tre prendiamo una carta minotauro un permanente minotauro e la mettiamo in campo dalla nostra mano fortissima perché innanzitutto non dice creatura ma dice permanente quindi se usciranno prima o poi che secondo me potrebbero uscire tranquillamente i place walker changeling per dire quindi con l'abilità che sono sono di tutti i tipi di creature in ogni momento noi potremmo mettere con di geridu dalla mano un place walker possiamo già farlo per esempio con moro phone vedete che ce l'avevo già preparato che questa creatura qua vediamo la promo fori dai allora tanto sta un sacco pre bello allora a changeling per esempio quando entra in gioco sciamo un tipo di creatura le spell di quel tipo costano uno per colori in meno e le altre creature di quel tipo prendono più ne vede un 66 però farlo di terzo un 66 non mi sembra male in più se giocate per esempio commander multiplayer o mtg o avete anche gli artefatti che accelerano quindi ci sono anche altre sinergie altre combo con questa carta tra l'altro qualora stampassero altre carte altre carte con changeling questa carta guadagnerebbe un sacco di value in più se stampassero e lo faranno prima o poi credo un commander minotauri questa carta prenderebbe ancora value capite perché si giocherebbe nel commander minotauri montato bene perché comunque se se la wizard fa un commander tutto incentrato su minotauri è difficile che non sia giocabile minotauri ovviamente for fa anno comunque a livelli medi no quindi questa carta qua pure un buon investimento il valore un po più alto siamo sui 18 19 euro però ottimo investimento poi monofon ve l'ho già detto e corpse dance siamo all'ultima carta allora questa è una carta molto particolare e isma visto che ci siamo confrontati per l'effetto di questa carta isma ha deciso di fare una una piece di un paio di giorni fa quindi molto interessante perché questa sinergia fra finanza ruling eccetera va avanti no alla fine non è una cosa sola sono mischiate perché tu cerchi una carta di finanza però c'è il dubbio di ruling quindi lui può fare il video su questo quindi veramente creiamo una bella sinergia speriamo vi piaccia questa cosa e auto cura costo tre mana buyback due buyback è un'abilità usata in più set già come costa dizionale possiamo pagare due mana per questa spell se lo facciamo ci torna in mano se risolve se viene counterata però va al cimitero non torna in mano e ritorniamo la car la creatura che in cima al grimo al cimitero in campo a rapidità la sediamo a fine turno all'inizio della fine del fine turno allora intanto instant quindi noi possiamo farlo anche per bloccare poi ci rimane nel nostro turno anzi no no se la facciamo per bloccare non possiamo non ci rimane il nostro turno la sinergia è che possiamo farla nella end dell'avversario allora tutte le carte che dicono at beginning of the next and step se noi la facciamo invece non prima della fine del turno ma alla fine del turno dell'avversario la creatura ci rimane anche nel nostro quindi questa piccola ancora di ruling che vi diciamo però il ruling che avevo chiesto il ma era isma ma io posso cambiare l'ordine delle carte nel mio cimitero questa dice top però io vedo tanta gente che mi schia il cimitero anch'io e lui cosa mi ha detto è detto che non si può fare in teoria il cimitero dovrebbe rimanere nell'ordine in cui in cui le le carte ci sono andate però la wizard per ovviare a questo problema che è un problema ha tolto non fa più carte con questa abilità cioè con questo tipo di abilità ma lo fa già da anni c'è già anni che non ci non ci sono più carte che fanno così quindi però la carta è molto forte perché possiamo fare per esempio rianimare che riserva in commander che è molto forte e il fatto che abbia buyback è un plus indifferente perché possiamo farlo più volte ed è veramente oppressivo la carta ha un valore di una quindicina d'euro anche qua 16 e ed è secondo me acquistabile assolutamente acquistabile intanto vedo delle copie interessanti sì 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 quella è molto interessante quindi un consiglio prendete corpus Allora siamo giunti a concluso di questo video speriamo vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like e commentate attivate la campanella e ci sentiamo alla prossima ciao